Marco Biagianti ha confermato le eccellente condizioni fisiche del Catania, frutto, emette Bergessio, del costante lavoro quotidiano, programmato anche da Marane e del suo staff. Nonostante i 29 punti, l'obiettivo primario del Catania resta, conferma l'attaccante argentino, la salvezza. Dobbiamo arrivare alla salvezza, mancano ancora tanti punti, però dobbiamo fare l'esforzo per arrivare prima possibile. Per Marane e suoi, domani in programma una doppia seduta a porte chiuse. Nel pomeriggio è tornato a lavorare... Più 5 rispetto alla passata stagione e 23 conquistati nella fortezza Massimino. Il Catania è tornato a lavorare oggi pomeriggio a Torre del Grifo per preparare la gara di domenica contro il Genoa a Marassi. Alla ricerca della forma migliore e del gol, Gonzalo Bergessio, per eguagliare il suo record personale di sette reti con il Catania. Non sono curato dal tutto e sto giocando infiltrato. Attenzione però alle gare fuori casa e con avversari con l'acqua alla gola come il Genoa, soprattutto se si vuole raggiungere qualcosa di importante. Tipo di squadre come Pescara, come il Genoa, che stanno un po' più sotto lottando per la salvezza. Sono squadre complicate e se vogliamo arrivare a qualcosa di importante dobbiamo vincere fuori casa. Tra sogni e speranze, messaggi d'amore sportivo verso Catania e compagni. Sentite per chi? A me piace il Lucas Castro. Deve ancora migliorare tante cose perché è arrivato da poco ma sarà un calciatore importante per il calcio italiano. Per ora mi devo al tutto, al 100% per il Catania. Dopo vediamo cosa accade nel futuro. Certezza Bergessio e certezza Lodi. Pulvirenti ha chiuso le porte oggi definitivamente alla sua cessione direttamente al procuratore del giocatore Alessandro Moggi. Top Secret invece ha ancora la voce entrate. Reparto attaccanti, anche se il Sud America bussa.